Il Presidente del Consiglio, Conte, ha lasciato il Palazzo del Quirinale, dove pochi minuti fa ha consegnato le sue dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Premier aveva già comunicato le dimissioni nel Consiglio dei Ministri di questa mattina, un incontro che a quanto pare si apprende e si è chiuso con un momento molto affettuoso e gli applausi dei Ministri al Premier. «Ringrazio l'intera squadra di governo, ogni singolo ministro, per ogni giorno di questi mesi insieme», avrebbe detto Conte. I capi delegazione del Movimento 5 Stelle, Alfonso Bonafede, del PD, Dario Franceschini e di liberi uguali, Roberto Speranza, avrebbero ribadito in tale seduta il loro sostegno a Giuseppe Conte. Con la fine del governo Conte bis, bisogna guardare al futuro. La decisione è nelle mani del Presidente Mattarella, ma è altamente improbabile che si torni alle urne. Data l'emergenza pandemica, è quasi scontato che dal Quirinale arrivi la nomina di un nuovo Presidente del Consiglio. Dato il clima disteso e la fiducia in Camera e Senato della scorsa settimana, è sempre più concreta l'ipotesi di un Conte Eter, con un sostanziale rimpasto fra i ministri. Da alcune indiscrezioni però emerge anche la possibilità di un governo tecnico guidato tra Mario Draghi. Non è chiaro invece il ruolo della compagine d'Italia Viva, causa della crisi politica del nuovo governo. Grazie a tutti.